Diritto di prelazione da parte di BIM GSP su Dolomiti Ambiente, gli amministratori sono divisi. La società che gestisce la rete idrica ha presentato a Villapat lo studio realizzato da BZM e Ars Ambiente relativo all'impianto del Maserot e ai costi e benefici dell'operazione. Un documento che ha promosso il biodigestore a pieni voti e ha avvallato l'ipotesi di costituire una società che si occupi dei rifiuti dalla raccolta al trattamento in maniera integrata. Secondo il report il Maserot ha una grande capacità di trasformare lo scarto in risorsa, ha un posizionamento vantaggioso lontano dai centri abitati ed è quindi una realtà di eccellenza del nostro territorio. La proposta ha scaturito un acceso dibattito tra i primi cittadini chiamati a decidere se affrontare l'acquisto di Dolomiti Ambiente o affidarsi ad altre soluzioni. Una scelta politica l'ha definita il presidente della provincia e sindaco di Longarone Roberto Padrini. Vogliamo che questo ciclo integrato di raccolta smaltimento rifiuti avvenga nel territorio della provincia di Belluno o no? C'è un'altra opportunità, quella della famosa holding che è stata costituita dal comune di Belluno e della Bellunum con le altre società. Insomma il tempo comincia a stringere, abbiamo poco tempo, però del resto abbiamo anche un patrimonio da un valore di circa 20 milioni di euro che sono stati investiti dal 1991 oggi per un impianto che negli ultimi due anni ha portato utili. Tra i dubbiosi il sindaco di Valle di Cadore Marianna Offer che pur ringraziando BIM e GSP per la redazione di uno studio preciso e dettagliato teme l'aumento delle tariffe e assieme ai colleghi chiede un piano industriale sul quale ragionare dati alla mano. È sicuramente un contenitore che è pubblico e che può essere importante per il nostro territorio, ma visto che siamo chiamati a fare una scelta politica è giusto chiederci se ha un futuro quell'impianto, cosa può fare anche alla luce della normativa regionale che impone di smaltire il secco in altri impianti e come sappiamo bene l'umido è sul libero mercato. La mia posizione personalmente non è un no così a porte chiuse, sono assolutamente pronta ad indagare e a studiare il tema, però non possiamo più pensare di fare scelte in provincia di Belluno che vanno a gravare sulle tasche dei cittadini senza avere un piano industriale.